Ciao a tutti! Ehi, cosa abbiamo? Cosa abbiamo, dice? Ma che cos'è? Sono le di cattoloni È una scatola? Sì! Oh! Ma questi personaggi li conosciamo, chi sono? Sono Coco Flop Quando è Bing E questo cos'è? Un camioncino dei gelati? Sì! Ma non c'è Gilly che guida, chi è che guida? Bing C'è Bing che guida un camioncino dei gelati Sì! E c'è anche un tavolo, un ombrellone e delle sedie E tutti stanno mangiando il gelato Ma sembra un gioco bellissimo Wow! E guarda un po' Wow, mi piace! C'è anche il camioncino, si chiude E diventa una valigetta che puoi portare dove vuoi Per giocare insieme a tutti i tuoi amici Mamma, apriamo! Apriamo? Sì! Sì, apriamo! Vediamo un po' Qui ci sono tutti i pezzi contenuti nella scatola Abbiamo cinque personaggi E anche tutto l'occorrente per un bellissimo bar C'è l'ombrellone, il tavolo, tre sedie, sei coni gelato E questi, che cosa sono? Ah, dei lecca lecca! Sì! Dei cucchiaini, delle palettine per il gelato E anche delle vaschette gelato Mentre sul retro, ecco qua Si vede tutto il playset completo E ovviamente questo è un playset fake Non è un Bing originale Come possiamo vedere dal logo che c'è qui E anche dai personaggi che ormai conosciamo bene Sì! Sì, sono un po' diversi da quelli originali C'è anche Bing con la maglietta bianca di nuovo Apriamo? Sì! Perché quella verde è avvocata di tembale al legame Eh, infatti Vediamo Guarda! E' bellissimo, anche le ruote Sì! E qui ci sono i personaggi Ecco Plop Coco Pando E Bing Perfetto E c'è Bing? Eh, tante cose sembra Vediamo? Sì! Ding, ding, ding E' arrivato il camioncino dei gelati Vediamo un po' E' dentro? Guarda che bello! Vediamo un po' cosa c'è Apriamo il sacchetto Guarda Guarda che sono belli i gelati Abbiamo un bellissimo cono al pistacchio Tutto verde E poi? Oh, il leccarecca! Sì! Guarda che bellini! Sì, il piatto E le sedie per sedersi al bar Sì! Poi un altro cono, il cioccolato Per chi è il cono al cioccolato? Per il coco Per il coco E questo cos'è? Il popcorn! Guarda! Wow, il popcorn! Sì! E il popcorn per chi è? E il coco Tutto per il coco è? Sì! E questo è carino Questo Un altro popcorn E qui ci sono le sedie per tutti E poi cosa abbiamo? Oh, guarda! Queste sono le vaschette di gelato Che si possono anche aprire Ecco qua Un altro con il gelato Oh, un altro con il gelato Questo è la vaniglia Mmm, buono E un'altra vaschetta Quello per chi è? Allora, montiamo subito il tavolo Così possono sedersi Ecco qua Ecco qua il tavolo Sul tavolo mettiamo anche ombrellone Guarda che bello! Aspetta! Adesso mamma deve mettere Guarda che bello! Wow! Attenzione! Ok, sediamoci tutti intorno al tavolo A mangiare il gelato Sì, che dice Il gelato è un bellone Quanto cattacca Cattacca le più varie tavole E anche un lecca lecca alla fragola E un altro Ha due gusti Sì E poi abbiamo Un cucchiaino Per mangiare il gelato E una vaschetta E una palettina per il gelato L'hai visto? Sì Adesso Adesso mettiamo un po' lì e mangiamolo È veramente carino Guarda qua Ecco qua Sediamoci tutti intorno al tavolo Manca una sedia Mamma sì Dov'è l'altra sedia? Non c'è Sono tre sedia Glop Stanno andando a prendere il gelato Ti piace? Sì Adesso l'ha preso mamma Sì Non vuoi ancora il pistacchio? Ehi Mamma guarda Questo sembra un picnic Sì È un picnic Sì Mamma mettiamola sulla sua sedia Coco Ti siede qui Sì E mangia il suo cono Sì Ok Che gelato vuoi Coco mamma? Che gusto vuoi Coco? Vaniglia Ecco qua la vaniglia Grazie Ecco qua E poi Poi mamma Quando si finisce di giocare Si può rimettere tutto dentro la vanigetta E puoi portarla dove vuoi Sì mamma Vuoi vedere? Sì Possiamo rimettere tutto qui dentro così Questo si può smontare così Ti aiuto io Ecco qua Va bene Ecco fatto Guarda Chiudiamo E puoi portarla dove vuoi Pronti per giocare di nuovo Hai visto? Guarda Sta arrivando il camioncino dei gelati Tintintintin Sta arrivando il camioncino dei gelati È Gilly? No È bingo È fatta Ecco qui E siamo pronti per giocare di nuovo Con il bellissimo camioncino dei gelati di Bing Fake Io e Alice vi salutiamo E mi raccomando iscrivetevi al canale E lasciate tanti D'accordo Ciao ciao E ci vediamo alla prossima Ciao ciao Grazie a tutti.